imparare il gioco e te trovi bene secondo me 7 su 10 ma va va tu i numeri subito abbiamo anche uno sto shogakian allora ce l'ho un poco larga, sarà difficile ce l'ho, ce l'ho sto provando a farci focus attacca attraverso ecco l'ho infatti non ha capito neanche lì cosa era successo ok ok ce l'ho andiamo ok no non ce l'ho ecco l'ho no quasi mi scende con l'uccisione non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è andiamo non c'è 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 ok la dire non aiuto ok ce l'ho dai che cazzo devo tenerlo non c'è chi non sa giocare per niente guattalo dai chi mi ha fatto l'altra parte si gira da solo ok in teoria ok non è uscito secondo colpo ok un po' stacca non potete una merda che l'ho mai da me mamma mia è impossibile sento che potete nulla si vabbè ehm adoken grazie fuzzis non è manco safe ok riprenderà un sacco punti gratis per questo attorno andiamo non volevo saltare che cacchio fa ci vuole e usci due cam mamma mia che si fa questo di come gioca smash a casaccio è tutta vita nooo se vede proprio che si gioca male però il gioco mi odia discusa la vira la ok ne andrò tipo a 500.000 prima di vince qualcosa ci sono mai i patch nelle quali si riportano in auge completamente i pg che sono in basso tier uh intendi i patchati quelli più deboli di tendenziali in realtà è successo di bigong è stato potenzialo tanto e poi sono tutti giocabili tranne i little mac praticamente riesce a giocare con tutti più che altro è ti so dire quali sono più complicati se ti dici un nome ti dico se è complicato da imparare o meno questo ti so dire tipo Ken è impossibile da imparare io non ci riesco di niente ancora sto giocando perchè adesso non sono capace di giocare su questa persona più vera dai che ce l'ho dai Ken anche perchè Ken ho dovuto sempre impararlo da quando è stato aggiunto al gioco è il primo dei miei personaggi preferiti sempre quindi dai così è ora è ora Ken l'unica cosa che so fare è quello ah ah Shoryuken oh che bello quello pure quindi tutti i tilt pure vanno in Shoryuken in teoria deve essere pure perchè hai fatto lo smash link? stupido non ha senso non ha senso lo batterò non lo faccio mica ok vabbè dai che cosa stupido ci ho giocato con Trapinaghi e Pantrava e non giocava così qui c'è la matura vedi quello che fanno male i giocatori che non stanno giocare è spammare sposti speciali vedi ma non è il bionetta ma non è il bionetta ti ho detto ti ho visto impararla ma è una faticace non è mai manca la pena perchè non è macombo personaggio quindi vedi tu se ti piace tanto il personaggio può stare cioè Joker in confronto è facile viene da dire non lo so eh però sembra ah vero vabbè 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 c'è un Shuriken era morto ho fatto il solo lo sapevo è un mio Shuriken ok ok dai così dai così vai Ken farlo farlo che non so come cazzo si salta e beh allora allora la prima cosa che ti consiglio è impara a far short hop premi il tasto salto per meno di 3 frame l'abitudine di fare quello tanto immagino pure che con maionette è importante con lui pure fare questo probabilmente è importante short hop nail vedi un po' dipende dal personaggio dopo che si fa short hop down air con lui probabilmente si fa short hop down air è qualche combo poi vedi di subito aver visto roba qua devi guardare come puoi uccidere col tuo personaggio e per questo dico che baionetta è complicata perchè la baionetta non uccide normalmente e sicuro non con gli smash del solito cioè gli smash uccidono però non non li usi una capita vera cioè non ci riesci proprio a usarli mamma mia le batte tutto aiuto come faccio a combattere un tipo cose bigliettili con ken ok amanti lucas fastidioso neanche giocatore online provo a fare uno spike della vita ah non sono scegliato ma sono morto che schifo proprio online 100% non mi sopporto inoltre non prendere lucas perchè vinci online è basta non sopportarlo in caso terminesse ma qui devi usare lucas e lucas fa schifo for flying però con ken non sopportarlo si fa mica però solamente il fogliettili c'è la ken ma fa schifo ma dove ken? fa schifo uuuuuh ok io devo fai uno spike ok ok non ho ancora capito quale cosa funziona non mi dà nessun vantaggio non mi dà nessun vantaggio non eccomi mi si fai da quattro focus attack oh cosa devo fare ah non ho niente morto? vai il problema mi dice che non mi piace non rilassati bene un giocatore del fastidioso no guarda il fatto che non mi piace il fatto è questo non è che non sempre devi fare un attacco da uno short hop per questo gli dico impara a farlo normalmente questo che una volta farà lo sbaglio si intende dice volare il dito fuori ok ti capisco perchè se premi x più a automaticamente fa il short hop ma con l'attacco proprio per forza vedi anche te con lui il tasto corrin ok col colore migliore di far l'intervallo se vuoi che l'ho venuto però ho sbagliato guarda quel cazzo quanto è bello posso manco fare jab block con lui ok probabilmente non così sbagliato sbagliato fare così che figata cosa di bellissimo il gioco di fare cari mi diceva quando esco nel gioco ma non c'è di shio ovviamente ho imparato abbastanza a dolarlo un benissimo non grazie e questo era devo facciare una speciale forse rifà si, si, si non ci si ho provato qui no davanti questo è un pezzo sopuro veramente non mi capisco ma domena figata il dash ma è troppo bello oh mio no cazzo vai no sono morto perchè non c'è rialdo devo avanzarmi vai così cazzo che stile 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 stile che 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 stile Ah, head up jump, bro, non c'è. Ops. Ho pochato. Lo che cosa serviva è che caccio, non mi ricordo. Ah, già. Davvero? Non sapevo cosa sia possibile, ok, bello. Ora ho fatto senza pegarlo. Dai. Dai. Vedete se faccia così. È il combo della vita di oggi. È molto male, è molto male. Dai, così. Che ti sei perso? Un match bellissimo contro una Corwin. Sono riuscito a vincere proprio all'ultimo. Ah. Ho fatto un focus attacca attraverso uno smash che è stato perfetto. Cos'è stavolta? Mezzaluna. Perché? Scrive il tutto più strano. Ah, posso farlo con mezz'unione in avanti? Ok, è meglio. Ok. Ottimo. Non so a cosa serva, ma posso farlo. Non so. Oh, mia. Che è il cortocchio con un'altra è bella. Dai a caso. Mi piace che ogni volta che vanno in panico, premo un tasto. Un smash. Tipo adesso. Mi piace che ha le frame trappi anche, ok, non è giusto che sia. Mi piace. Yeah, gioco come un robot. No. Mi piace. Ma tu lo so che va a fare spike. Sempre così, oh. Così ovvi. Non è sempre uguale. Spara niente giocando online. Menni parlo su Kaken. Nassi che figliato. Nooo, è il secondo bugio. Ok, è più stile. Ok, è più stile. Ok, è più stile. Oh, mio. No, stupertutto Secondo te come viene da fare semplicemente sui pezzi sono bassi Aspettare una nuova agenda Bella domanda Aspettate che arrivo Allora, secondo me Ora, aspetta un attimino l'annuncio della PS5 magari Perché già ci sono notizie a riguardo Aspetti un attimino magari Si sa, prima cosa se diventa più potente E se la potenza in più significa semplicemente che arriva alla potenza di un pc Nient'altro Perché alla fine Anche il computer mio che è abbastanza nuovo I giochi in 4k non li reggia ad esempio Che te ne fai la PS5? No, è per sapere se faranno giochi più pesanti, capito? Perché per ora si è standardizzata la faccenda Se non ci fosse stato quel possibile annuncio Aspettate le 3 Questo lo dico Prima devo farti un pc adesso Aspettate Se vuoi farlo io Se vuoi star sicuro di non far cazzate Sperri Aia Ah non c'è riguardo Capito Non c'è riguardo a raffica Non c'è riguardo di tutti i cimenti Io c'ho un vantaggio Sui hit Dai, giochi Ok Serietà Due suicidi non mi vanno bene Farro Solo quello Ciao comando Faccio il weekend Si può ma fallo vero E' difficile Di abbastane no? Porca miseria davvero Prende sempre tasti Incredibile 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 Sarà perri Sarà morto Butta da via questa Quindi mi dobbiamo aspettare Una nuova gen Visto che MT Trebbe rilasciare roba Tra un mese e mezzo Si Si Decisamente Secondo me si Giusto per star sicuro Poi ti viene dal budget Se hai un budget Diciamo Non da computer Top di gamma Prendilo adesso E fregateli Tanto Parsi computer file Non arriverà mai Al massimo A meno che non paghi Un pacco di soldi Al massimo Aspetti una nuova gen Paghi meno i pezzi vecchi Ti fai un computer migliore Con meno soldi Questo Ok Solo ti batterò Ok Senta bello Senta bello Senta bello Stavo sopra Stavo nasciando Volevo vedere Che schifo questo Dai Perché Perché Ho vinto io lì Ho giunto Di nuovo Cassi Appena rinco Non si fa mai Quella roba lì Ogni volta che devo Per i frammentasti Adesso perché Suo Ken Ma Stavo con ciò Che ne ho vinto Molto mille volte Guardalo eh Lo sapevo Allora Ecco lo fai di nuovo No Oh Sono Sbagliato Perché l'ha fatto Subbili Non aveva senso Oh cavolo Volevo fare I mesciuti Che lì Era morto Ok Guardalo Non è che provo a farlo A consenso No Da cazzo Oh Oh Fico Fico Fa un Knockdown Ecco perché Oddio Non ci provà Ok Vediamo se riesce a passare La barriera Siamo online Ok C'è armatura Ci sono due vite Ok Derubato Mi sono arrivato a limite Di sopportazione Ah ok Guarda Se non devi giocare Roba in 4k Puoi anche comprarla adesso Perché qualsiasi cosa faranno Se anche esce la PS5 Sarà tipo tra un anno No prima Giusto che lo devi fare In maniera che Tu potrai potenziare il computer Almeno un minimo Magari prendi una buona scheda madre Il processore E la scheda video Tra lì compri tra qualche mese Guarda Guarda Lo Che faccio fare Come sempre Però non si è girato Che è un problema Per motivo Ok Lui è morto No Cos'era? Allora A caso Ah Sbagliato Sbagliato Un po' Quello Quelli Perché non volevo fare Nel atta Però ok Che ti ha fatto Avanti Ah Per me Sempre i tasti Sono morto Oh no Come mai Oh cazzo Come fa tanto Oh cazzo Come fa tanto Oh cazzo Come fa tanto Oh cazzo Devo fare tutto il pc Praticamente Andate Non capite Che è stato Con un preassennato Vecchio di 7 Con una G50 Uff 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 Beh Dipende anche cosa c'ho Ok Perché dai dai Io ho una 1070 E vado tranquillo A un momento Anche se faccio streaming Col portatilino qua Vecchio di 6 anni Quasi 6 anni a Luigi Lui si è capisco L'offertazione In realtà Ci sono passati tutti Dai Sì 10 skills Un attimo Sì 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 Ok Non c'è Pesce 0% Due vite Tutto combo, è una figata Come è giusto che sia però Street Fighter Partita più veloce della storia Ragroll praticamente è un miracolo Senti League of Legends ci giocavo Su un portatile Vecchio di, cioè su un fisso Che aveva, aspetta La 9800GT La GeForce 9800 Capito qual è? Sai perché hanno è quella scheda video? Adesso la devo controllare, guarda Non so mai più che hanno è ma Solo quanto è vecchia NVIDIA GeForce 9800GT Lo reggevo al massimo Lo reggevo Di che hanno 6? 2008 Questa è stata come 9 Contro Fox Che figata E' una figata sto personaggio Sei troppo vecchio tu Eh sì lo so Comincio a sentirli Faccio 25 anni tra 3 giorni Pippo Non lo reggevo al massimo E' una figata No ci sono Di che raggiungiamo E' una figata E' una figata Non sa se è invincibile lo cerito. Non credo, l'avevo troppo sgavato per gli standard di. Arriba, si bench cross. Che cosa fai? Suo livello. Non credo, l'avevo mai sentito così tante volte su Yooker. No? Bella. Mi faccio vintura non è per pensioni di ansia. Allora non sono così vecchio, cosa dici? Pensioni di ansia, dai pochi. Ma fa' il culo. Cosa fa? Aiuto. Vabbè, l'anscavità del 2009, voglio dire. Sai che arrivo in Elite con Ken? Sai quanto cosa? Allora, andiamo. Infatti mi sa che 24 guande esattamente. Però non ho niente speciale che ho tanto festeggiato con lui i miei fratelli di qualche giorno fa. E' vero. E' vero. Ok. Senza te. Vabbè, mi reggio lo smash. Io ti posso aiutare un pochino, ma se tipo mi mandi replay e roba del genere, ma lì c'è guarda. Così l'ha fatto anche un amico mio e mi ha aiutato un sacco. Ops, 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 ops. Ok, non ero pronto, non ero pronto. Mi sento che è rubato. Stavo pensando ad un altro. Non ero pronto, no. Dove far protect. Adesso ancora riprende. Adesso morto. No, io faccio la Barry sulla roba. Il mio jab, non ho fatto il jab. Non volevo fare l'attacco. Deve essere morto. No. Beh sì. No. Faccio una Barry sulla roba. Ciao Graeme. Si, Ken ce l'ha voglia. E' tipo uno dei miei preferiti del gioco. Che bello, guarda qui c'è Ken nel gioco. Ken è uno dei miei preferiti del gioco. Sempre. Il fatto che sia su Smash mi rende felice, ma è quasi impossibile da bruciare. Però adesso ho comprato più o meno come si gioca. Mi riesce. Ah, sbagliato. No. Ciao. Quello che ho bisogno è una cazzo di video sulle basi per adesso. Il jab per un mesetto e poi si vede. Ah, sulle basi. Avessi. Adesso io poi ci provo. Vado in allenamento un attimo. Mi viene in mente qualcosa. Ti dico, avete imparato adesso di le basi. Praticamente. Ma io ce la fresco in mente. Che sai. Ci ho volato di cazzare però. Non c'è merda. Non c'è merda. Daie. Daie. Non c'è arriva. Non c'è arriva. E' stato morto. Guarda che se esce avanti. E' una soddisfazione il miscio di Luca. Non ce la faccio Non mi terrà mai vecchio Secondo personaggio confermato Non è possibile giocare? Beh, hai provato mai a giocare a Kenny? In questo gioco Provalo due secondi Mi fa le mosse vere Mi fa le mosse come se fosse Street Fighter in Smash Non per forza Però sono più forti Tipo Shuriken le sto accendo con Shuriken proprio Quando devo fare danni Perché fai più danni se lo fai perfetto Ah non si gira però Adesso c'ho il dash Aia Bello Mi sono impegnato per 10 minuti Ok dai, dopo Cioè veramente Ken è il metà personaggio di Smash normale Diciamo Cioè c'è i tasti corti Uccide con lo Shuriken Ma devi farlo bene E il fatto che tu se premi A Velocemente succede quello Se ti temi premuto Fa l'attacco forte Stessa cosa con i tilt Però Dungev può uccidere lui Perché può fare Shuriken Giustamente Questa sta frame Perché ci prende più Ci prende Bellissimo Ahi cosa faccio Shuriken Tutto è uscito Devi farlo facile No perché io avevo fatto il dash Non l'attacco Vabbè Vabbè Non ce l'ho giocato oggi Vai Tentra 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 La prossima volta Pesa Basta Ma è vencita almeno Non credo Dovrei cercarlo Però non credo Quello sia Dp spam pure qua Esatto Ma non credo sia dp Quello è il problema Però è bellissimo Cioè Non pensavo che il controllo del gamecube Fosse così bello Per fargli sui weekend Davvero Quasi come un arcade stick È bellissimo Questo controllo è una figata Questa roba Ah sbagliato Su Si bloccano magari Ah sbagliato Non so perché non l'ho preso Secondo gel Puoi dash Hai visto? Sta sempre girato verso il nemico Ogni volta che muovi le vetta Fa così Vedi È una figata Ah lo fai in uscita in faccia Ma che lì Ho sentito anche È morto Non sapevo che avevo fatto di nuovo quella Vai 29 dandy Eh tipo lì potevo faccire il game Ma non è uscito Ancora No vai 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 1947 Lo vuoi fare Ma non è uscito Le input Sbagliato Invece che Stai Ti diverò E mi Ho fatto al contrario Sagra č Cogra ma sempre la parte sbagliata ok ancora il salto dai l'ho preso l'elicottero ok ancora vivo ah ok è vero, lo scordo sempre lo sapevo, io volevo la panacea più in faccia basta un jab e mordo dai così se non sa che mi fatica più poco reward esattamente, a un punto dico che è ingiocabile poi dico attentissimo guarda invece come secondo personaggio solo per quello metto male la mano, madonna è bellissimo perfetto, ogni volta che uccidi qualcuno con Ken è proprio tipo vai ho vinto il gioco poi il fatto che posso dare una token alla volta è un fastidio capisco perché non ha senso bella come stack pure fa cagare metto una counter ma fegge può fare il dash però quindi insomma e vedi sono un colpo gol fa schifo ciao fai excelento giocando street fighter no per no a a chi a c a a a a E' un po' così, così. Ah, e' un po' così. E' un po' così. E' un po' così. Facca, schifo. L'avevo fatto with punish perfetto poi ho sbagliato. Ho sbagliato, lo sapevo che l'avevo fatto. Vabbè, ce l'ho meglio. Che era abbastanza resistente però nonostante la logica. Sì, ma, vatti dico, controllo di GameCube è una figata a farlo. Poi lo vedi, perfetto, guarda. Non pensavo mai. Guarda di giocare su arcade stick, pure meglio. Dopo, farò uno finito il gioco a Dragon Ball con controllo di GameCube. Vediamo che succede. Insomma, questo gioco abbastanza tassi. Noi, dai, è forte. Vedo, faccio i gioali. Faccio i spottos, ma l'ho perché? Ficcio. bellissimo io l'ho fatto così perché vi serviva abbastanza così tempo andiamo ancora vivo te lo meriti per me per me ok ovviamente Ah, quasi Tipo il tasso macchino faccio con side B perché non serve a niente potenziale Ho sbagliato, adesso sono morto No Dai 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 Posso sentire proprio la differenza tra l'uno potente e Shuyuken, uno vero e uno finto Nooo, cosa faccio vedere spotwatch? Bravo Uh, decisamente sì, sto andando un grillo al posto di Ken Vabbè Well played Poi ha fatto lo cento di elite con Ken Non è male, direi che le basi ho mai l'ho capito Devo imparare questa roba qua a cosa serve? Fa mezza luna per forza per fare quello lì, non c'è il tasto con B Madonna, fatigaccia No, l'obraccia No Che mi faccia No, voglio fa Quella mezza luna Ah, è perché è in avanti Tu che lo sbagli Ah, l'ho fatto, giuro Shuyuken, vero, vai C'è un vantaggio che tutti i suoi attacchi sono attivi un sacco Tipo c'è l'errore proprio da una mezz'ora E poi uccide con un jab, cioè, vedete Cosa che poi gli posso venire A cento, tipo, poi, non è qualcosa di assurdo Bella Non l'aspettavo per niente Assolutamente Joker è molto meglio dependerlo come personaggio Sempre proprio Ho molte condizioni con Joker Con Joker Con Joker Ah, vabbè, l'ho uccido lì Non so perché ha rimbalzato in calma inestrana Dai Ciao, pre- Metella, fersi 1-2, ciao di nuovo Il miglior nickname Non posso dire da scordare Ahia Devo fare dash Sto sbagliando un po' That's it, schifo No, è morto lui Che ladrata Dai, dai, dammi questa vittoria Vieni qua Pazzo No, probabilmente perderò Vai, da Una vita, una vita Andiamo Prova che si Un po' di nessuno Perchè non batto quel bigliettile Perchè non batto quel bigliettile? È incredioso Pall'inizio ne frega Ah, c'è due colpi Ah, è una merda che cosa fa Che palle Non so quando li riparano Proprio ovviamente rotto Ah, c'è due colpi Monserger Che cazzo Dai Che ladro chiamo la polizia È giusto Swatting Ma ciò che era buono Visto che molti più ne fanno bene Tipo chic con più forte Sì, sì Tipo chic con alta gun Madonna Se devo fare Meteor Le... Le... Cosa Meteor è legge? Cos'è questo Deve risol È una figata Volevi fa Meteor E anche Corri è attivo tantissimo Il mio forte Uff Vieni qua È ora di portare Kenny Elite Dai L'ho preso Ah Lliore di Mega M troprà Música Meravigliosa Meravigliosa Ah Te ho resaltato Questa cosa che si gira da sola è bellissima Smash è una cosa che mi dava il fastidio a quella, mi sa Non c'è arrivato perché abbasso, devo fai su lui che ne basta Adesso si è morto eh Andiamo Sarà così facile, lo fai più prese Invece si è così facile, porca droga Sì ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha visto E' pure quello che ho chiuso è il back air, è una bestia anche Sarà più difficile da fare perché non può girarsi naturalmente Devi, perché a mezz'aria non si gira Ok, e può fare il reverse aereo, allora ce lo può fare Ho visto Prima non è stato così L'altro modo è fai i cross up, come in steel fighter Andiamo Ok, sì ho capito le basi del gioco decisamente Con Ken mi trovo benissimo adesso Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato Purtroppo ha saltato a me per una volta Oh, ho fatto quella giusta per una volta L'idea è che, visto che si gira verso l'avversario c'è sempre il jab verso lui Quindi il jab c'ha 0 gittata per quello Però se prendi col jab puoi uccidere Ed è istantaneo come quasi l'altro jab, quindi Non so come va con lo sui neopto shield Ah, ce l'avevo dove ho passato la palazzo e l'ho appena morto Ah, ce l'avevo dove ho passato la palazzo Cazzo l'aveva andato bene Non si era rischiato tantissimo Ansia No, l'avevo visto No, lo sapevo Ah, l'aveva rubata Fatto shield, cosa vuoi più dello Shuriken? Eh, dovrei farlo con su B E' più debole E non so quanti frame va E' soltanto in una direzione Quindi Non saprei Up smash pure sembra decente Ma Questo si, ok Sai il fatto che mi riesco a farlo Non so perché, non me lo va Non so perché non me lo faceva Ma però Il match, curioso Bello giocare con questo tipo Perché è bravo Ah, ya Almeno sempre Ho parato a pararmi ma Ho fatto Il cazzo ma qui da un po' più lungo Oh, se no volevo Ok, avevo finito a fare la presa Qui deve far comodo Tutta un'altra cosa Tutta un'altra cosa Eh, basta Sì Infatti fa un cazzo le danni qua quel jab da solo Giustamente Bella Ho sbagliato Il mio spot touch Il mio spot touch È smashe che se Oh, avventà Beh, va a far comodo Es dita Ah, sarà miероD juventud? Ok Ho avuto L'ho visto perfettamente Guarda i danni Ah può fare uno smash Wow, se lo aspettava L'ho fatto a caso, pensavo ad un'altra cosa Non so perchè ha fatto uno smash di canne che si aspettava una rotolata che non ho fatto mai fino adesso Adesso vado a cercarmela Serif Shrugen Can out of shield options Ok, ottimo Can Si 5 frame Quindi si è una bestia potato uscire No? Proprio se ci da verso l'avversario Quindi Adesso ci penso Si adesso non mi tocca mai il suo Adoken Perde contro Tutto Tutto ciò che fa Ma Tutto quello che faccio io Perde contro il Shrugen Non vale Si può caricare e uccide Questa che è anti-air a questa ki Tipo è un denabile sulla testa perchè è una bestia C'era un gioco su gente Mentre mi colpiva Basta un jab ed è morto Ecco Tutto O Si Se dai cosi di non ho visto che legge quella roba lì vai questo è il combo ah ho sbagliato non so come sia possibile ho anche salvato va bene usiamo sa quei nani e passa pure sopra i proiettili se ne frega altrimenti ci ho provato fa moltissimo mamma mia fa sacco di spivare ho visto e ora che no ho visto di me mal no ho visto di me mal c'è quasi se ho avvenuto fa che un corso ce lo canio io Ah volevo provare a fare il battito con le opzioni lì ma Sbagliato No ho sbagliato Bella Ciao curosega di nuovo Ma la massa di mano del jetto d'acqua fa danno No, spinge lontano O batte le gente come Bowser la mazzia automaticamente Quando fa subì praticamente Se invece questa cosa è cambiato il personaggio di semi di camera e ci va così Questo vuol dire che è un gioco fatto bene Nonostante riciclino delle mosse Allora Ok è uscito, aspetta Curosega, vuoi ancora le cose base? Up smash 9 frame That's ok Ok, Ken c'è un sacco trovo l'out of shield Figo Nair 9 frame addirittura Feliz shield and jab 14 frame Ok Ok Buono sapersi Sì sì Non è il suo ultimo mi ha detto che semi misto Giovanni Bucciacci a Yutobi Veramente mi hanno detto più volte che sono che assomiglio a Yutobi L'altro giorno sono andato in pizzeria Mi guarda Tipo la commessa che stava andando via Mi fa Ma lo sai che tu assomigli a Yutobi? Ok